Tu sei socia onoraria dell'Associazione Partigiana Sì, però non mi considero partigiana perché avevo questa bicicletta e andavo in giro per il cinema, per le strade dove ci sono naturalmente le case e appiccicavo dei manifesti contro i fascisti mettevo su sedili nel cinema dei manifesti ma non mi considero partigiana anche una editora in seguito perché e anche io affitto dì questo lo stavolato quindi si accontence come prima domande tua eccolo magari c'è un茶 ha fatto più esempio ma la persona mi ha v andar con il cinema Una volta al mese uscivo, cioè dal verduraio sì vicino, per prendere il pane con le carte annonarie, una volta quando sono uscita, prendere l'autobus, il tram, che vedo dietro proprio la macchina di quello che è in uniforme, che ha fatto uccidere tutti i partiti, del partito d'azione dei partigiani, quello vicino, quello sotto di me, quello che aveva la moglie e figlio che la chiamavano dopo, saputo, Aquila Nera, e lui mi vide, allora non ho preso il tram, sono andata dritta perché pensavo, troverò una casa dove entrare, dove c'è una seconda uscita, una volta sento la rivoltera dietro a me, venga, venga con me, signora Fischer, signorina Fischer, io non mi chiamo signorina Fischer, è proprio il vivo, no? Non ho guardato neppure chi è dietro, dice venga subito in macchina, sono andata in macchina e mi hanno portato fuori città, mi sono anche esposta, un po' esposta dalla macchina, dal finestrino, dico qualcuno vedrà, mi vedrà e dirà la mamma che dove sono, perché sarà molto preoccupata, no? Così non si faccia attenzione, no? Mi hanno portato fuori città, una casa dove c'era una camera stretta, lunga, tre inquisitori, io così come sono seduta adesso e da lontano mi cominciano, allora lei si chiama Fischer, io non mi chiamo Fischer, avevo una paura terribile perché avevo nella mia borsa le carte anonarie come Fischer, perché non ho avuto come venturi, dice lei, sì, lei non è italiana, sì che sono italiana, ecco, ce l'ho i miei documenti e li ho dato, e dice ma lei conosce Massè? Sì certo che lo conosco, siamo amici, ma che fa? Dico la moglie con la figlia, faccio ritratti, parliamo di letteratura, parliamo di tante cose, posso avere amici anche lei amici, lei perché ha cambiato la casa quando ha saputo che io sono quello che sono, quello che ha detto, no? Ufficiale, fascista, insomma, dico lei me lo dice, ma io la considero un uomo intelligentissimo, lei ha cambiato casa perché sapeva certamente dove vengono a bombardare e quando vengono a bombardare, lei aveva una paura che correva sempre in rifugio, anche mia madre correva, allora lei ha cambiato casa, ho pensato lei cambia casa perché pensa che forse verranno qui a bombardare, anch'io ho cambiato per questo, dovevo lussingarlo in qualche modo, insomma dopo 2-3 ore di interrogatori, di quasi come si chiama mamma, papà, cioè tutto volevano sapere, hanno detto va bene, vada, dico guardi è così lontano, mi accompagnate con la macchina e mi hanno accompagnato con la macchina, naturalmente mi hanno chiesto l'indirizzo, dove abito, ho detto falso naturalmente perché non vadano a prendere, ma io pensavo ormai sono persa, che non ritorno più e dopo naturalmente sono rimasta in quella casa e ancora un po' e poi ma se ha detto è meglio che vado abitare da lui che abitava con la moglie e figlia e mamma e noi tutti siamo state fino alla fine della guerra in casa sua. è vero' um po', riguardo ho, e questo fo'ρaccio a dimostrindere, mandato un po' jedero compagno, non vede l'azione di che מדri, ma si sono arrestati,买 Grazie.